Lo scontro tra regione Campania è industriale sui fondi per lo sviluppo, secondo gli industriali i fondi per lo sviluppo sarebbero stati dirottati dal Presidente della Giunta regionale Caldoro e questo il tema d'apertura della nostra conversazione con Massimo Grimaldi, Consigliere regionale, Presidente della Commissione regionale Bilancio. E' un'accusa giusta quella degli industriali, del Presidente degli industriali, soprattutto Fiore? Ma già il termine dirottati da un'altra parte suona male, nel senso che… Non sarebbero stati finalizzati allo sviluppo? Noi dobbiamo fare una premessa che è indispensabile in questo ragionamento, la premessa è che noi nel 2010 quando siamo entrati in questa regione abbiamo trovato una regione in pieno dissesto, avevamo sforato il patto di stabilità, la vecchia Giunta, vi erano difficoltà serie nel settore della sanità dove vi è ancora un piccolo disavanzo, dove avevamo redditato una situazione disastrosa e quindi abbiamo dovuto occuparci solo ed esclusivamente di mettere a posto i conti. Senza i quali non avremmo potuto realizzare nulla, anche delle poche cose o grandi cose, non lo so, questo lo decidiranno gli opinionisti. Abbiamo dovuto far ripartire la macchina regionale, ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto con sacrificio, nel mentre eravamo impegnati su questo ricordiamo che sono intervenuti una serie di decreti legge nazionali per cercare di arginare la spesa nazionale, quindi abbiamo avuto ulteriori tagli nei trasferimenti, non ultimo la cosiddetta spending review, quindi ogni giorno mentre noi eravamo impegnati con delle regole di gioco che ci permettevano di risanare i conti stringendo la cinca e facendo grossi sacrifici, abbiamo avuto ulteriori tagli. Quindi in tutto questo, nonostante tutto questo non abbiamo fatto mancare i servizi essenziali, abbiamo dato uno sguardo serio a quelle che erano le politiche sociali, il settore agricolo forestale, il settore dei trasporti che era enormemente in crisi. Certo, a questo è mancato la cosiddetta molla dello sviluppo, così come era percepita dalle imprese fino a qualche anno fa, spese incontrollate, spese che non hanno poi realizzato lo sviluppo in questa regione, mi riferisco al cattivo utilizzo dei fondi strutturali, tanto è vero che la Campania se non è una regione che è cresciuta rispetto alle altre regioni, nonostante ha avuto la possibilità di poter spendere nel passato i fondi strutturali, è dovuto proprio al fatto che i fondi strutturali sono stati spesi male. Quindi io eviterei di dire dirottati dall'altra parte, direi piuttosto che dobbiamo essere impegnati tutti e quindi questo deve farlo da parte sociale, devono fargli imprenditori, devono fare la buona politica perché è il segnale principale che noi dobbiamo dare nel cercare di uscire dal guado in maniera definitiva e di poter far ripartire lo sviluppo della nostra regione. A tutto questo non mancano però le buone notizie, lo sblocco di 500 milioni che erano stati accantonati dalla UE, quindi abbiamo avuto lo sblocco di questi soldi, lo sblocco di l'accelerazione sui grandi progetti per quanto riguarda gli investimenti dei fondi strutturali, quindi una serie di cose che ci stanno comunque permettendo di uscire dal tunnel, dal burrone e di poter ripartire. Apriamo ora una finestra sugli inquietanti chiari di luna che si riflettono sulla politica nazionale, sul nostro paese, il nostro paese sempre in affanno a causa dello spread, ormai lo spread è diventato il motivo conduttore delle difficoltà economiche del paese. Si parla anche del congelamento delle tredicesime, ipotesi verso la quale i sindacati hanno già minacciato guerra d'oltranza. Guardi, io su questo ho notizie di giornale, non ho notizie di prima mano, credo che è una notizia sicuramente inquietante, voglio ricordare che la stessa cosa è già avvenuta in altri paesi dell'Europa, in paesi importanti che hanno caratteristiche come le nostre, mi riferisco alla Spagna, non fosse altro che sono campioni del mondo e campioni d'Europa del calcio, già questa notizia voglio dire, per chi la legge è inquietante, sarebbe inquietante anche per l'Italia se questo avvenisse, perché poi ricordiamo che la tredicesima serve di fatto a tanti per poter spendere a Natale per i regali ai propri cari, agli amici, quindi è un modo per il quale almeno il 50%, questo è dato dalle statistiche, viene rinvestito, quindi immesso nel circuito economico e commerciale per fare acquisti. Quindi significherebbe un colpo serio anche all'economia, ai tanti commercianti, quindi anche in termini di spesa e di consumi sarebbe veramente un colpo enorme all'economia del nostro paese. Quindi spero che questo non accada e spero che ci sia un'accelerata verso il cosiddetto decreto sviluppo che credo che il governo abbia messo all'ordine del giorno, e spero che i partiti che appoggiano questo governo tecnico e il governo di Monti siano attenti in queste ore, soprattutto su questo, perché veramente i cittadini sono oramai stufi, sono oramai stanchi e veramente hanno difficoltà enormi e bisogna essere attenti da un lato al contenimento della spesa e credo che questo sia stato fatto, ma non si può pensare di tagliare anche quello che poi rimane quel barlume di sopravvivenza che gli italiani ancora conservano. Ecco, la sensazione è che altre misure siano nell'aria e a pagare siano sempre gli stessi. C'è chi invoca la patrimoniale, i tecnici del governo tecnico rispondono che è tecnicamente difficile attuare una patrimoniale, non è un paradosso? Ma guardi, io per la verità sono contrario alla patrimoniale, contrario alla patrimoniale nel senso che io credo che chi ha di più deve pagare di più rispetto a chi ha di meno. Però, ha detto lei prima, è difficile l'applicazione e soprattutto è difficile immaginare, e questo è avvenuto con questo governo, di bloccare la possibilità di dispendere, quindi di bloccare i consumi anche da parte di chi qualche disponibilità economica in più ce l'ha. E invece io punterei più su questo, cioè darei la possibilità a chi ha la possibilità di spendere qualcosa in più, di poterlo fare. E questo negli ultimi tempi non sta avvenendo, mi riferisco per esempio al settore nautico, si legge oramai sui giornali di quanti proprietari di imbarcazioni hanno trasferito le proprie imbarcazioni in altri strati, in particolar modo in Croazia. Quindi c'è una depressione dei consumi in Italia anche da parte di chi ha la possibilità di spendere qualche soldo, che non rimane più nel circuito economico del nostro paese, ma va verso altri circuiti economici. Questo è un piccolo esempio, non è l'esempio principale, ma è uno dei tanti esempi sui quali ci vorrebbe un po' di attenzione in più. Io porto sempre un esempio, che è quello della Germania, che rispetto alle altre nazioni dell'Europa Unita ha perseguito una politica fiscale diversa rispetto alla nostra. E' pur vero che la Germania ha i conti in regola, ha un tessuto imprenditoriale diverso rispetto al nostro terziario che compete, ha una serie di condizioni politiche, la Gross Coalizione che consente di avere una stabilità maggiore rispetto agli altri paesi della UE, però è pur vero che la Germania ha tagliato il cuneo fiscale, ha ridotto il cuneo fiscale rispetto ad altri paesi come il nostro che invece lo ha innalzato. Ed è questo un po' gli aspetti sui quali dovremmo confrontarci e sui quali dovremmo capire se è meglio innalzare il cuneo fiscale per fare cassa piuttosto che tagliarlo e dare la possibilità a tanti di poter reinvestire. I partiti che sostengono il governo Monti, chi più chi meno, criticano le misure adottate dal Presidente del Consiglio, dal governo, ma poi però entrambi sostengono, mi riferisco a PDL e PD, sostengono l'operato del governo. Non c'è il rischio che paghino Dazio in occasione delle prossime elezioni? Ha omesso l'Udc, c'è anche l'Udc che sostiene questo governo, certo che c'è un rischio ma non credo che ci sia altra alternativa. Bisogna obbligatoriamente sostenere con forza e con convinzione, certo, non accettare in maniera sicchette semplicite per qualsiasi provvedimento, discuterlo, avere la possibilità di poter dialogare sulla possibilità di provvedimenti buoni e di provvedimenti che hanno caratteristiche negative sull'impatto economico, ma non credo che ci siano altre scelte. In questo momento è indispensabile sostenere questo governo che ha fatto delle cose impopolari, ma ad un certo punto noi eravamo anche arrivati in un punto di non ritorno. Rischiavamo seriamente addirittura di non pagare più gli stipendi agli statali, altro che congelamento di tredicesima, se non ci fosse stata un'accelerata rispetto a riforme fondamentali per il contenimento della spesa. Per cui credo che la direzione di marcia debba essere questa per arrivare poi in primavera del 2013 di ridare ai cittadini un governo politico scelto direttamente dai cittadini e spero che su questo ci si arrivi con una riforma elettorale seria che restituisca veramente ai cittadini e non solo di facciata la possibilità di potersi scegliere i propri rappresentanti, di potersi scegliere chi deve governarli e metterli naturalmente alla prova come avviene in tutte le democrazie partecipate. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione, da Quino Politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora. Grazie.